Musica Si sono insediate le commissioni consigliari Approvato l'assestamento di bilancio, si conferma la buona gestione dei conti 630 nuovi posti letto per gli studenti universitari Bentrovati a questa nuova edizione di Consiglio News, settimana intensa di lavori per l'Assemblea legislativa del Piemonte Partiamo dall'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti delle otto commissioni permanenti e delle giunte per il regolamento e per le elezioni avvenuta lunedì Un passaggio essenziale per il buon funzionamento dell'organo legislativo ha sottolineato il presidente del Consiglio Davide Nicco Uno strumento fondamentale per ascoltare e garantire risposte puntuali alle istanze dei piemontesi E' il luogo principale dove approfondire ogni tematica e confrontarsi in maniera responsabile e costruttiva La prima commissione, bilancio, sarà presieduta da Roberto Ravello, Fratelli d'Italia Mentre vicepresidenti saranno Deborah Biglia, Forza Italia e Fabio Esnardi, Partito Democratico Il principale obiettivo è quello di dare continuità all'operato della scorsa legislatura Dare continuità nel sostegno all'azione di risanamento dei conti della giunta regionale L'azione di risanamento dell'importantissimo patrimonio immobiliare della regione Piemonte La seconda commissione urbanistica ha come presidente Mauro Fava, Forza Italia e vice rispettivamente Marina Bordese, Fratelli d'Italia e Nadia Conticelli, Partito Democratico Gli obiettivi sono quelli di essere presenti su tutto il territorio piemontese Gli argomenti non mancano perché è una commissione molto operativa Dai trasporti all'urbanistica, alle opere pubbliche In terza commissione economia è stato eletto presidente Claudio Sacchetto, Fratelli d'Italia E vicepresidenti Marco Portopapa, Lega e Monica Canalis, Partito Democratico Questa legislatura dovrà risiferare su alcune materie Penso alla nuova legge sul commercio, penso ad esempio alla nuova governance delle comunità montane E quindi sicuramente di lavoro da fare ce ne sarà Alla quarta commissione sanità il presidente eletto è Luigi Icardi, Lega I vice Davide Zappalà, Fratelli d'Italia e Daniele Valle, Partito Democratico L'obiettivo importante è il piano sociosanitario, l'edilizia sanitaria con 11 nuovi ospedali Con tutto il PNRR da portare a compimento E le liste d'attesa che sono un problema nazionale ma cui le regioni certamente possono dare un contributo La quinta commissione ambiente sarà presieduta per questa legislatura da Sergio Bartoli, Lista Cirio Vicepresidenti Daniela Cameroni, Fratelli d'Italia e Alberto Unia, Movimento 5 Stelle Il tema dell'inguinamento dell'aria, sicuramente anche la sostenibilità è molto importante Quindi bisogna incentivare una politica che supporta la sostenibilità La sesta commissione cultura ha come presidente Paolo Antonetto, Fratelli d'Italia E i suoi vice sono Daniele Sobrero, Lista Cirio ed Emanuela Verzella, Partito Democratico Potenziare tutte le nostre capacità su questo campo Proprio per dare delle risposte al territorio di sviluppo e di cultura in sinergia con lo sport Alla presidenza della settima commissione autonomia è stato eletto Andrea Cerutti, Lega Mentre Elena Rocchi, Lista Cirio e Mauro Calderoni, Partito Democratico, sono i due vicepresidenti Questa commissione è fortemente evoluta nella passata legislatura Oggi avrà un compito importante, quello di analisi di monitoraggio dell'iter Che sta attivando la giunta nel percorso di autonomia Sicuramente sarà una commissione molto attiva che andrà a vigilare e fare delle analisi attente sui contenuti La commissione legalità sarà preseduta da Domenico Rossi, Partito Democratico Che verrà affiancato dai vicepresidenti Pasquale Coluccio, Movimento 5 Stelle e Gianna Gancia, Lega Il tema della legalità richiede un intervento soprattutto culturale ma anche economico e sociale Credo che la commissione regionale dovrà essere strumento certo per l'ente regione Ma anche per l'intera comunità piemontese in collaborazione con i tanti enti istituzionali Ma anche associazioni che si occupano di questo tema da anni La giunta per il regolamento è preseduta da Davide Nicco in qualità di presidente del Consiglio Sono stati invece eletti vicepresidenti Sergio e Barnabo, Fratelli d'Italia e Laura Pompeo, Partito Democratico Verificare che il regolamento sia congruente e che sia rispettato Va ad agire a volte anche in ambiti piuttosto antipatici Cioè quando il regolamento non viene adeguatamente rispettato e quindi si richiamano anche all'ordine le persone che non lo rispettano E quindi è un compito abbastanza delicato e da fare con un certo equilibrio Come presidente della giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità E' stato eletto Alberto Avetta, Partito Democratico Vicepresidenti Simona Paonessa, Partito Democratico E Davide Buzzi Langhi, Forza Italia Segretario Silvia Raiteri, Fratelli d'Italia Cercheremo di affrontare questo nuovo impegno con determinazione, con competenza E soprattutto tenendo conto appunto del fatto che sono una commissione tecnica Quindi che deve tenere in considerazione tutti gli aspetti E' una commissione che aspetta le forze di minoranza Però certamente noi avremo un atteggiamento molto istituzionale Dopo l'insediamento la prima commissione si è messa subito al lavoro Ha licenziato l'assessamento di bilancio 2024-2026 Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 E il rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2023 Provvedimenti a cui l'Aula, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'assessamento del bilancio 2024-2026 Nei termini previsti del 31 luglio Il provvedimento si compone di nove articoli Relatore di maggioranza Carlo Riva Vercellotti, fratelli d'Italia Si confermano gli equilibri di bilancio Ma soprattutto si conferma un'azione politica Volta al recuperare un debito abnorme Senza aumentare le tasse Che non è di poco conto Cercando di mantenere appunto gli equilibri E i servizi soprattutto ai cittadini Relatore di opposizione Fabio Isnardi, Partito Democratico La cassa è praticamente inesistente per un ente così grande Ci sono gli enti locali che aspettano i contributi concessi E i comuni piccoli, se la regione promette i contributi ma materialmente non fa il bonifico Non riescono più ad andare avanti In aula sono poi intervenute Gianna Pentenero, Partito Democratico Che ha lamentato un decremento delle risorse dedicate in particolare alla sanità E Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra Che ha ribadito come il ritardo nel conferire i contributi In particolare al terzo settore Costringa a ricorrere al sistema bancario Dovendo quindi pagare gli interessi L'assessore Andrea Tronzano ha replicato Parlando di buona gestione certificata dalla Corte dei Conti Dal miglioramento del rating da parte di Moody's E dalla regolarità nel pagamento delle fatture ai fornitori entro 60 giorni Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia Il bilancio soffre Perché è un bilancio carico di debiti Carico di disavanzo del passato Però piano piano stiamo già tornando a dei livelli accettabili E negli cinque anni precedenti Abbiamo sostanzialmente diminuito il debito e il disavanzo di 3 miliardi di euro Quindi contiamo di continuare in questo modo L'Aula ha anche approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 di DL1 Nell'illustrazione e nel dibattito sono intervenuti Paolo Ruzzola, Forza Italia Come relatore di maggioranza E Fabio Isnardi, Partito Democratico, relatore di opposizione E libera all'unanimità anche al rendiconto dell'Assemblea legislativa Con un risultato di amministrazione positivo 2023 di 10,8 milioni di euro Che, dedotte le quote vincolate e accantonate Porta all'avanzo di amministrazione a circa 4,1 milioni di euro Approvato dall'Aula anche il disegno di legge sulla residenzialità universitaria in Piemonte Il Piemonte avrà tre nuove residenze universitarie Per un totale di 630 posti letto nuovi Da mettere a disposizione dei vincitori delle borse di studio Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria Che prevederà le strutture a Torino, in via Vanchiglia, a Grugliasco Nell'ex ospedale psichiatrico infantile Villa Azzurra E a Novara negli spazi dell'ex centro sociale Incrementiamo le residenze universitarie con altri 630 posti letto Già nella scorsa legislatura l'incremento era stato da circa 2.600 Quindi procediamo speditamente a dare opportunità E a garantire il più possibile il diritto allo studio universitario Che riteniamo fondamentale e imprescindibile Gli immobili, come spiegato in aula dal relatore di maggioranza Davide Zappalà, Fratelli d'Italia Saranno ristrutturati all'insegna dell'efficientamento energetico Abbattendo eventuali barriere architettoniche Il costo complessivo sarà di 71 milioni di euro Di cui 47 provenienti da Miur Sono anche degli importanti momenti di riqualificazione urbana Di spazi che vanno ripristinati decadenti in molti casi Il provvedimento aumenta lo stanziamento regionale a Edisu Da 8,5 milioni a 13,38 milioni Per consentire la realizzazione degli interventi individuati Ammissibili al cofinanziamento statale L'avvio dei lavori è previsto nella primavera del 2025 La consegna delle residenze è calendarizzata entro il 2027 Per Gianna Pentenero, relatrice di opposizione Simona Paonessa, Domenico Rossi ed Emanuela Verzella, Partito Democratico Questa variazione di bilancio che aumenta le risorse è un atto dovuto Nel prossimo bilancio si valuterà che queste operazioni non siano isolate Riteniamo questo un primo passo, un primo passo importante Che la regione deve compiere E credo ci possano essere anche altre soluzioni Per cercare di attrarre studenti che vedono magari coinvolti i privati Sappiamo bene quanti sono gli appartamenti che non risultano essere affittati Carlo Riva Vercellotti e Daniela Cameroni, fratelli d'Italia Hanno sottolineato l'importante sforzo economico Si aumentano le borse di studio e i posti letto In continuità con gli sforzi degli ultimi cinque anni Sulla stessa linea l'intervento del capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola Nel corso del dibattito sono anche intervenuti Alberto Unì a Movimento 5 Stelle Alice Ravinale, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra E la presidente del gruppo Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo Annunciando il voto favorevole Ma sottolineando come si tratti di un intervento importante Ma non ancora sufficiente Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte E cui i lavori riprenderanno a settembre Arrivederci Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS